Buonasera a voi da vostro professore, Professor Sturons. Miau, miau e riniau col capo giro. Titolo, Lo specchio magico. Specchio, specchio delle mie brame, dimmi chi è la più bella delle arme? E lo specchio, silenzio. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella delle arme? E lo specchio, silenzioso. Specchio, specchio delle mie brame, dimmi chi è la più bella delle arme? Lui, silenzio, lei lo prende. Questo accidente di specchio non funziona. Come cacchio si accende? Ciao.